Ciao a tutti e bentornati sul mio canale! Oggi voglio parlarvi di un libro che mi è stato consigliato tempo fa e che trovo assolutamente interessante e introspettivo sui pensieri e le emozioni di una persona che desidera imparare l'italiano. Il libro in questione è questo, in altre parole, di Junpa Lairi. Lei è una scrittrice che ha sempre parlato e scritto in inglese, in lingua inglese, dice qui infatti, in altre parole è il primo libro che nasce direttamente in italiano da un'autrice di madrelingua bengalese che ha sempre parlato e scritto in inglese e trova nell'italiano una sorta di altra identità, quindi lei si sente molto affine alla lingua italiana e perciò decide di impararla. Questo libro è scritto in italiano, ma non è una traduzione dall'inglese all'italiano. Lei ha direttamente scritto questo libro in italiano. Se leggerete il libro conoscerete la storia, si è innamorata della lingua italiana e ha voluto appunto che l'italiano la rappresentasse anche da un punto di vista identitario. Come ho scoperto questo libro? Questo libro mi è stato consigliato da uno studente con cui ho fatto qualche lezione di grammatica e mi ha raccontato di questo libro che stava leggendo e che secondo lui sarebbe stato interessante anche per me, allora ho deciso di comprarlo e leggerlo perché mi aveva brevemente raccontato la storia di questa scrittrice ed è effettivamente affascinante la storia di Giun Palahiri. Quindi anche se non volete leggere questo libro, vi invito ad andare a leggere la sua storia su internet perché troverete tantissime informazioni. Di che cosa parla il libro? Lo definirei un libro autobiografico in cui la scrittrice racconta del suo percorso per imparare l'italiano, tra alti e bassi e con tutto quello che imparare una lingua comporta. Lo studio dell'italiano l'ha accompagnata per vent'anni della sua vita e questo libro è la prova che imparare l'italiano o imparare una qualsiasi lingua in generale è un lavoro che richiede tempo, che richiede sacrificio, che richiede lavoro. So che voi siete d'accordo con me, so che voi capite cosa significa imparare una lingua straniera. Però non mi stancherò mai di ripetere queste cose perché troppo spesso su internet si vedono delle pubblicità, dei prodotti che mirano ad attrarre clienti sponsorizzando diciamo il fatto che con quel prodotto imparerai una lingua in 30 giorni. Ecco, questo no, non accade. Non è vero. Non è vero. E questo libro ne è la prova. Questo libro fa veramente capire cosa succede nella mente di una persona che vuole imparare una lingua, quello che succede nei momenti positivi e negativi dell'apprendimento. Perché è interessante questo libro? Perché ci dà l'opportunità di conoscere i pensieri e le emozioni che abitano una persona quando impara una lingua straniera e quando comincia a conoscere una cultura diversa dalla propria. Quindi è interessante perché possiamo dare uno sguardo a quello che succede dentro la testa di uno studente, alle sue emozioni, riguardo a determinati eventi che accadono, eccetera. Per me da insegnante è interessante per capire lo studente, per capire il punto di vista dello studente. Come si sente? Che cosa prova? Mentre per gli studenti questo libro è interessante perché possono avere una testimonianza da un altro studente, si possono trovare dei punti d'incontro e delle somiglianze nelle esperienze oppure si può venire a conoscenza di un'esperienza totalmente diversa dalla propria. Quindi questo libro offre molti spunti di riflessione sia per gli insegnanti che per gli studenti. Come è strutturato questo libro? Direi che il libro è diviso in episodi o aneddoti legati a eventi specifici nella vita della scrittrice oppure a oggetti che lei usa o usava in passato nella vita quotidiana. Dal punto di vista linguistico quando si legge il libro si nota la progressione della lingua, si nota proprio un cambiamento nella lingua perché man mano che si procede, man mano che si va avanti con la lettura, la lingua diventa più complessa. quindi i primi capitoli sono semplici, la lingua è semplice, le strutture sintattiche sono semplici e man mano che la storia procede e che quindi si va avanti a leggere il libro, anche la lingua evolve, evolve insieme alla persona. Quindi gli ultimi capitoli sono linguisticamente più complessi dei primi e questo appunto riflette l'evoluzione linguistica della scrittrice. Questa che ho io è la versione totalmente in italiano, esiste però anche una versione bilingue in italiano e in inglese. Vi consiglierei di prendere la versione interamente in italiano, però se volete ovviamente potete prendere la versione che preferite insomma. Fatemi sapere nei commenti qui sotto che cosa pensate, se avete già letto questo libro oppure se vi piacerebbe leggerlo, io ve lo consiglio caldamente. È davvero una lettura che potrebbe aiutarvi a vivere forse meglio il percorso di apprendimento e soprattutto per sapere che non siete soli nei momenti difficili. Quindi, imparare una lingua è un percorso fatto di alti e di bassi. Celebrare solo i momenti positivi è facile, il difficile viene quando dobbiamo accettare i nostri bassi, cioè i nostri momenti di demotivazione, di stanchezza. Se riusciamo a capire che quei momenti dobbiamo viverli in ogni caso, perché ci sono, dobbiamo affrontarli, quindi se capiamo che semplicemente dobbiamo accettare quei momenti andremo avanti meglio e più velocemente. Quindi bisogna accettare e celebrare sia i momenti alti che i momenti bassi del proprio percorso di apprendimento dell'italiano, nel nostro caso, perché questo vale in realtà per tutte le lingue. Allora, vi ringrazio tanto per aver guardato questo video, ci vediamo nel prossimo. A presto, ciao! 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 Ciao!